Armando Pontone è tornato in pista perché si sta preparando al campionato CIV Supersport Next Generation, alla sua prima volta tra l'altro. Sì, siamo scesi subito in pista, infatti già per la prima volta a fine anno sono riuscito a salire in sella e ad effettuare tre giornate di test. Abbiamo effettuato due giornate inizio gennaio e settimana scorsa abbiamo fatto un'altra giornata di test. Quindi sei uscite in pochissimo tempo e sono veramente soddisfatto, ma soprattutto ringrazio chi ha creduto nel progetto e mi ha supportato in questi test perché per me è fondamentale fare più chilometri in moto per arrivare pronto ad inizio stagione. Prima impressioni su questi test? Il freddo non ci ha aiutato tanto, ma il test di fine dicembre è stato un buon test, i tempi sono stati buonissimi. Mi sono allenato in una pista qui vicino perché purtroppo le temperature non ci aiutano, però noi del sud abbiamo la fortuna di avere una temperatura migliore a nord e quindi ne ho approfittato per poter fare i chilometri. In attesa di Misano? Sì, diciamo che a marzo inizieranno i primi test con la moto a 100% configurata per la nuova categoria che farò. Non vedo l'ora di provare la nuova configurazione del motore e tutta la struttura dell'Axon 7 Team. Cosa ti preoccupa per questa nuova categoria? Allora, sicuramente sarà un anno di esperienza perché i miei avversari, diciamo i big della categoria, è già un anno che hanno un anno di esperienza con la moto configurazione Next Generation, però sono consapevole di poter far bene. Dopo essere in un team campione italiano come l'Axon 7 Team mi motiva di più. e adesso con il preparatore di B-Trainer ci stiamo allenando al meglio fisicamente in questo periodo per poter affrontare le gare che sono doppie nel weekend, quindi si corre il sabato e la domenica.